Allora Sinzer, questo salto lo dedichiamo a Ringo Virgin Radio, quello del revolver Quello del revolver, appunto, stavo dicendo, ringazzo Tu è il revolver Noi abbiamo questo Skydive, ti aspettiamo Ciao Andrea Rock, ciao Virgin Ciao Ringo, ciao ascoltatori di Virgin Radio Siamo a 3100 metri di altitudine Siamo pronti per saltare e fare uno dei lanci più punk rock Della storia del paracaotismo Skydive Ringo, skydive viazione radio Scriviamo terra, punk Rock and roll Punk rock e skydive Rossa meno Sii Scriviti 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 Re Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.